Riprende vigore la voglia di fare impresa in Italia nel secondo trimestre 2024. Secondo l'analisi trimestrale condotta da Union Camere e Info Camere, tra aprile e giugno il saldo positivo tra aperture e chiusure di imprese vede un incremento di 29.489 attività con un risultato superiore a quello dello stesso periodo dell'anno scorso. Uno degli elementi chiave di questa crescita è stato l'aumento delle iscrizioni che hanno toccato quota 81.456, registrando una ripresa di 2.179 unità rispetto allo stesso trimestre del 2023. Sul fronte opposto le cessazioni hanno raggiunto le 51.967 unità, segnando un incremento rispetto alla media storica e il quinto aumento consecutivo in cinque anni. In termini assoluti il Sud Italia si conferma un importante motore di crescita con un saldo positivo di 9.084 nuove imprese e un tasso di crescita dello 0,44% in linea con quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Anche il nord-ovest e il centro Italia hanno mostrato performance positive, con tassi di crescita dello 0,56% e dello 0,51%. La Lombardia si distingue come la regione più dinamica, con un saldo positivo di 6.483 imprese, seguita dal Lazio che ha visto un incremento di 3.851 nuove aziende.